Il tè antinfiammatorio che aiuta a digerire. Ingredienti per due tazze, perché è più buono in compagnia. Un pezzetto di curcuma di circa un centimetro, un pezzetto di zenzero di circa un centimetro, un limone, un pizzico di peperoncino in polvere, due cucchiaini di miele. Tempo di preparazione 10 minuti circa. Pelate le radici di curcuma e zenzero, tagliatele a fettine sottili, spremete il limone, mettete la curcuma e lo zenzero in un bricco o caraffa termica, versateci sopra 700 ml di acqua bollente, lasciate riposare per 5 minuti, poi aggiungete succo di limone, peperoncino e miele. Mescolate e lasciate riposare per altri 5-10 minuti. Servite caldo. È importante sapere che la curcuma è un antiossidante, antitumorale, antinfiammatorio naturale. Lo zenzero è un antinfiammatorio e favorisce la digestione. I limoni sono alcalinizzanti, battericidi, antisettici e antiossidanti. Il peperoncino accelera il metabolismo, è un tonico e un afrodisiaco. Per questo buon tè a tutti! Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto cerca altre ricette trendy e sane nelle playlist del mio canale. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!